Salve ragazzi, benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi siamo il 19 novembre e naturalmente l'ora sono le 22.30. Vi porto una notizia che mi è stata portata in redazione da un sito che si chiama Sulla Strada Onlus. Questa asenzia, questa associazione di volontariato crea una possibilità di una riconversione del lavoro di sfruttamento minorile nel Guatemala soprattutto dove ci sono bambini che dall'età di 4 anni fino alla maggiore età li fanno lavorare i guatemaltechi nella produzione di fuochi d'artificio. Sì, proprio nella popolazione dove sono i nativi Maya. Proprio lì, fuochi d'artificio, li usano diciamo con il cacciavite imprimono la propria da sparo dentro dei petardi e poi mettono le micce. Naturalmente qualsiasi situazione di calore o di sfregamento con il cacciavite che loro utilizzano tipo 10.000 volte al giorno ripetendo questo gesto li può comportare un'esplosione che poi in moltissimi casi quindi provocano in questi bambini ustioni poi avranno problemi psicologici a non finire ma che potrebbero qualcuno anche tralasciare come situazioni importanti ma soprattutto danni fisici diciamo perché devono stare sempre con gli occhi aperti tensione a mille perché sanno benissimo già all'età di 5 anni cose che non dovrebbero sapere perché dovrebbero coltivare il gioco l'entusiasmo, il sorriso, la felicità del vivere il diritto alla felicità non il diritto al dovere di lavorare all'età di 5 anni io penso che almeno quando uno è bambino ha il diritto a essere felice, di essere bambino anche se non ha magari la grande capacità di esserlo e quindi questa sulla strada onlus come ho detto all'inizio sta facendo un progetto economico alternativo voi potete dare 30 euro al mese per adottare questi bambini in questo paese di Granadiglia e avere la possibilità di acquistare nel loro sito bigiotteria o quant'altro stanno comprando terreni perché logicamente la terra fa parte di una nicchia del 2% della popolazione proprio per evitare che queste persone possano sfamarsi coltivando il mais, il fagiolo o quant'altro ma gli danno la possibilità di essere sfruttati da parte delle major che vogliono la produzione di foglio e artificio per spettacoli pirotecnici nel mondo sudamericano come voi ben saprete molto utilizzati a livello folcloristico per qualsiasi situazione, ok? qualsiasi festa popolare o anche privata quindi una cosa orribile e penso che va fatta girare questa cosa, questa notizia va fatto sì che se non l'avete mai visualizzato andatelo a cercare sulla strada onlus perché penso che è un'associazione sana, seria e molto diciamo svincolata dalle grandi associazioni che magari potrebbero perdersi i soldi che voi andate a donare o creare dell'interesse dietro a questa onlus io ho noto che queste persone sono poche, ristrette e che vanno da persone che comunque sia organizzano anche viaggi gratuiti in Guatemala un mese senza spese devono fare soltanto un check up sulla persona che possa essere una persona che possa dare un aiuto a questi bambini per creare un'alternativa come vi ho già illustrato e logicamente se siete interessati sappiate che potete andare sul suo sito e potete anche andare a visitare, a unire la possibilità di fare volontariato e fare sì che aiutate veramente chi sta peggio di noi perché ci lamentiamo ma c'è chi sta peggio di noi quindi famiglie distrutte, bambini che non hanno e vi hanno negato il diritto alla vita e che quindi magari potete da un viaggio di curiosità per il Guatemala unite anche qualche cosa di far del bene che logicamente come diceva mia nonna fai del bene e ce lo ritrovi fai del male e ti ricasca sopra arrivederci, siamo sempre a Senigallia